La ricerca è frutto di una joint venture internazionale con un gruppo di ricercatori dell'Università di Kiel in Germania, i quali avevano a disposizione tutta una serie di ecografie sotto il fondale dello stretto di Messina che ci hanno consentito per la prima volta di svelare con prodotti ad alta risoluzione qual era l'assetto strutturale e stratigrafico dell'area dello stretto di Messina. Ovviamente l'elaborazione e poi la successiva interpretazione di questi profili sismici ci ha consentito in maniera lambante di vedere una profonda spaccatura del terreno proprio al di sotto dello stretto di Messina, questa spaccatura che noi in termini scientifici chiamiamo faglia, non solo è una faglia ben evidente ma mostra tutte le caratteristiche di attività recente perché disloca praticamente il fondale marino che per noi è un indizio molto importante ma anche le caratteristiche geometriche tra cui la lunghezza che è di circa 34,5 km e alcune relazioni che noi utilizziamo spesso in sismo tettonico ci indicherebbero che questa faglia è capace di generare terremoti di elevata magnitudo, cioè anche superiore a 6,9 che è una magnitudo comparabile con quella dell'evento del 28 dicembre del 1908 e fu di magnitudo stimata 7,1 anche se la magnitudo minima stimata fu 6,8. Quindi per queste caratteristiche noi riteniamo con un buon grado di certezza che questa sia verosimilmente la faglia che provocò il terremoto del dicembre del 1908. Ovviamente poi la faglia è inquadrata in un contesto sismo tettonico dello stretto in cui noi chiariamo anche alcuni aspetti controversi per esempio perché lo stretto si allontana da Sicilia e Calabria si allontana e noi lo imputiamo a delle discontinuità che stanno nelle profondità crostali che noi abbiamo visto attraverso delle indagini di alta penetrazione fino a capire qual è la struttura profonda dello stretto e quali sono gli effetti in superficie del movimento in profondità di questi corpi. Chiaramente questa scoperta mette un po' di ordine, di luce, fa un po' di luce su quella che è la faglia probabilmente che scadenò quel grande terremoto. È anche da dire, c'è anche viene tenuto conto di queste strutture o di altri modelli comunque che rientrano in un quadro sismo tettonico perché? Perché ed è per questo che la lunghezza da noi stimata è molto interessante perché sostanzialmente quando si progetta un'opera il terremoto cosiddetto di progetto, cioè la magnitudo massima che noi ci possiamo attendere nell'aria è che sono 6,9, 7,1. In base a questo parametro che sembra passare sotto tono ma è un parametro molto importante, il progettista o chi sarà, possono calibrare l'opera per resistere a terremoti di quella energia. Le nostre attività continuano sempre perché noi siamo costantemente sul terreno, noi ci occupiamo principalmente di geologia dei grandi terremoti, soprattutto terremoti del passato e quindi continueremo con le nostre attività di terreno, anche di simulazioni matematiche per capire, per fare luce o tentare di fare luce sui più grandi terremoti che hanno colpito la nostra area, compresa la Calabria Meridionale, ma anche qua la zona del Siracusano. Ovviamente questo articolo che noi abbiamo pubblicato si inquadra in un contesto più ampio che è un progetto PRIN, che sono i progetti di rilevante interesse nazionale in cui noi costituiamo l'unità di ricerca di Catania e da questo punto in poi le ricerche continueranno su tutta la Calabria Meridionale perché non dimentichiamo che anche la Calabria Meridionale ha subito eventi sismici catastrofici del 1783 o del 1905. Quindi il nostro studio parte dallo stretto di Messina mettendo un po' in ordine quelle che erano le varie ipotesi su questa faglia e poi proseguiremo per tutta la Calabria Meridionale così come prevede questo progetto che noi stiamo portando avanti.